A piena pagina sul Fatto Quotidiano si parla di affari intrecciati Toto e D'Alfonso. Il caso è quello di un quotidiano abruzzese e anche del rischio e della volontà di essere comprato da un imprenditore locale. Allora, proprio Maurizio Acerbo su questo aveva anticipato. Oggi qual è il quadro? Il quadro è che in Abruzzo non se ne parla. Il 15 luglio io ho fatto un comunicato per denunciare che c'erano queste voci e che il gruppo dei Benedetti si deve liberare per l'antitraste di vari quotidiani, tra cui il centro, cosa che ci dispiace tra l'altro del trentesimo compleanno del quotidiano dell'Abruzzo, e che ci sono cordate di imprenditori, tra cui Toto, interessati all'acquisto del centro. Ora, praticamente, quindi ci sarebbe un gruppo imprenditoriale che è già padrone di mezzo Abruzzo, che ha interventi e conflitti di interessi perché le opere pubbliche le decidono gli enti pubblici. Quindi, se questo gruppo, che già ha l'amico che governa la Regione, e si prende pure il quotidiano principale della Regione, qui siamo alla Repubblica delle Banane, o meno alla Regione delle Banane. E io credo che il silenzio che c'è in Abruzzo su questo sia inquietante. ma per la Regione delle Banane. Grazie a tutti